Mi sono commosso perché nella vita uno inizia a diventare diffidente, magari riguardo gli accaduti che poi uno può avere personali. Un'operazione Lampo, quella guidata dalla polizia, che ha portato all'arresto di due uomini accusati di aver tentato la rapina nei confronti di Lorenzo, che martedì notte, dopo aver finito il turno di lavoro al McDonald's della stazione, stava tornando a casa. Grazie alle telecamere di sicurezza, la polizia ha individuato gli uomini mentre si stavano dando alla fuga. Volevo ringraziare innanzitutto i medici che mi hanno curato, perché immagino che la faccia sia una zona anche delicata e tutto, quindi particolare attenzione, sono stati bravissimi, e i falchi della squadra mobile che hanno operato con tempestività. Lorenzo ha riconosciuto i suoi aggressori tramite foto segnaletiche, entrambi sono nel carcere di Sollicciano, accusati di tentata rapina e deformazione del viso tramite lesioni. E poi vediamo se ci vorrà una plastica, in base a come mi si rimagina la ferita, loro mi hanno detto questo, che innanzitutto sono fortunato a essere vivo, perché a prescindere dai giorni che loro mi abbiano dato, il rischio di prendermi veramente poco più in giù. Hai già pensato al giorno in cui rientrerai al lavoro, ripasserai dalla zona dove è successo il fatto? Ci ho ripensato, sì, ci ho ripensato proprio cinque minuti fa, e per me sì, potrebbe essere un po' un trauma, ora spero di riuscire a gestirla bene questa faccenda, che perché di lavoro uno ne ha bisogno, e quindi cerchiamo di lavorare su questo trauma. Ogni tanto mi viene da commuovermi in occasioni sbagliate, perché magari mi dicono quella parola che mi apre, quindi ancora un po' di timore, anche se li hanno presi perché sono contentissimo di questo, e girerò molto più tranquillo a prescindere, perché insomma si sta molto più tranquilli, però il timore c'è, la zona che abbiamo spostato il locale rimane sempre lì e la situazione è sempre drastica.